A Masha piace tanto disegnare prima di andare a dormire! Guardate che bello! Cosa dovremmo disegnare ancora? Guardate che bello! Guardate che bello! Cosa dovremmo disegnare ancora? Guardate che bello! 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 Masha ha paura del buio! Cos'è successo questa volta? Stanno ronzando le api, stanno raccogliendo il miele! Che cosa c'è? E' solo una corrente d'aria! Cos'è successo questa volta? E' l'acqua che sta sgocciolando! Che cosa c'è? Cos'è successo questa volta? Ma cosa c'è dentro? Oh, che cosina interessante! Masha piace guardare i cartoni animati prima di andare a dormire! No, non è giusto! No, non è giusto! No, non è giusto! E' proprio quello che serve! Andiamo a dormire! La luce non ci lascia dormire! E' proprio quello che serve!